Oggi parliamo di qualità. Ci sono dei dati, ci sono delle notizie, quindi i cittadini che invece si lamentano per tante cose che non vanno, possono dirsi più tranquilli? C'è stato un miglioramento? Allora, c'è un grande impegno da parte dell'azienda verso i pendolari. Nel nuovo piano di impresa abbiamo destinato oltre 3 miliardi per nuova flotta, nuove tecnologie e un change dei processi che riguardano i treni regionali pendolari. I primi sei mesi fanno registrare un miglioramento importante, che è stato anche apprezzato da più clienti. I clienti per noi sono le regioni. Ultimamente, siamo qui per questo, alcuni pendolari si sono lamentati per l'arrivo dell'ondata calda che sta attraversando la nostra penisola. Quindi ci sono state lamentere per quanto riguarda la climatizzazione a bordo. Noi siamo qui anche per raccontare quello che l'azienda ha fatto, che sta facendo e che farà nelle prossime ore proprio per gestire meglio questa ondata di caldo straordinaria, ma che ci consentirà di poter far viaggiare meglio i pendolari toscani e anche delle altre regioni d'Italia. In che modo migliorerete questo servizio dell'aria condizionata? Abbiamo potenziato le attività di controllo degli impianti di climatizzazione in maniera preventiva, nelle ore notturne, durante il giorno, mettendo a bordo delle nostre carrozze e dei nostri treni il personale della ditta che esegue i lavori per noi, insieme anche al personale di Trenitalia. Quindi intervenendo anche durante la marcia del treno e in caso di emergenza su una carrozza, perché quello che è successo è che su otto carrozze dei nostri treni a volte c'è stato un guasto ad una carrozza, e lì in caso di emergenza su una carrozza interveniamo anche con la consegna di bottigliette d'acqua per i passeggeri che occupano per ragioni appunto di affollamento anche quella carrozza con la climatizzazione guasta. Sicurezza sui treni, soprattutto per i ferrovieri, ecco anche da questo punto di vista è migliorata la situazione in Toscana? Guardi, allora stiamo lavorando per migliorarla. Innanzitutto noi abbiamo individuato dei treni a rischio e abbiamo chiesto la scorta da parte della Polizia Ferroviaria, lo sta facendo, a bordo andiamo anche noi proprio per vedere di persona quello che sta succedendo. Stiamo monitorando la situazione, nelle prossime ore faremo il punto appunto con la Polizia Ferroviaria, perché è quella che ci assiste in queste situazioni. Ecco, diciamo allora, adesso ricordiamo quanti sono i pendolari in Toscana e quanti treni circolano regionali? Allora, i pendolari in Toscana sono oltre 200 mila, i treni pendolari in Toscana sono oltre 700 al giorno.